Dopo 10 anni a rimorchiare, 93 ragazze portate a retto e oltre 1.400 uomini aiutati, ho scoperto tutte le più potenti scorciatoie per far sesso facilmente con nuove ragazze e ho deciso di rivelare tutto all'interno del nuovo videocorso Confessioni dopo 10 anni a rimorchiare, dove scoprirai i segreti, trucchi e informazioni più micidiali che i maestri della seduzione tengono solo per sé e che ti permetteranno di portarti a retto nuove ragazze a comando e diventare un uomo altamente desiderato. Acquistabile in sconto fino all'11 giugno, dopodiché chiuderà e non sarà mai più acquistabile. Clicca sul link in descrizione per maggiori informazioni. Se avessi saputo tutto questo, anni fa, quando ho iniziato ad approcciare, a questo avrei fatto sesso con almeno 200 ragazze in più. Queste che ho appena sentito sono le parole di Gianluca, uno dei coach ufficiali di approcciala.it, quando io ho mostrato quello che avevo registrato. Mi aveva detto, Luca se gli sveli tutto questo poi dovrai insegnargli anche come gestire più ragazze contemporaneamente, sei sicuro? Quindi non mi sono minimamente risparmiato, questa volta ho messo tutto sul tavolo. Quello che ho imparato in dieci anni, passati a approcciare, rimorchiare, far sesso e parlare con i migliori seduttori in circolazione, anche a livello globale, l'ho confessato. E qual è il risultato? Una raccolta di tutti i segreti, trucchi e tecniche più micidiali per portarti a letto nuova ragazza a comando e diventare un uomo altamente desiderato. Far sesso oppure non farlo sarà una nota scelta. Perché? Perché una volta che avrai accesso alle informazioni che ho raccolto in un decennio, avrai la strada completamente espianata. Potrai trasformare il mondo intero in un grande supermercato, tra virgolette, dal quale selezionare la donna o le donne che preferisci. Anche quelle strafighe o che pensi che siano fuori dalla tua portata. E sì, queste informazioni ti faranno andare a letto con più ragazze, sia che tu parti da zero e sei vergine, sia che tu sia già in azione e magari riesci già a ottenere appuntamenti e anche portarti a letto qualche ragazza. Questo perché ti svelerò letteralmente tutto. Come dire addio alla paura o ansia di approcciare e parlare con ragazze sconosciute da vivo. Grazie a quello che scoprirai ti sentirai in dovere di parlare e provarci con successo, con tutte le fighe che ti passano vicino. Perché e come uscire dalla massa di uomini falliti e ottenere i risultati che desideri con le donne. Sei stanco di essere sfigato come tutti quanti gli amici che frequenti? Oppure di essere solo come il 99% dei uomini? Ti rivelerò come ottenere più risultati con meno sforzo grazie a delle semplici azioni che puoi mettere in pratica già fin da oggi. Scoprirai il trucchetto per far diventare estremamente facile ciò che in questo momento ti sembra difficile. Ti scoraggi perché approcciare, parlare o fare un appuntento perfetto ti sembra complicato? E spesso molli ancora prima di iniziare? Non ti preoccupare perché troverai l'antidoto per trasformare il difficile in facile e divertente. Diventerai un treno infermabile pronto a superare qualsiasi ostacolo che si metta fra te e quello che c'è in mezzo alle gambe delle ragazze. Scoprirai come diventare totalmente immune ai rifiuti e alle sconfitte. Al primo rifiuto appuntento è andato male e ti butti giù? È normale. Ma tutto quello che ti serve per superare qualsiasi difficoltà e inscioltezza è il metodo che usavo anch'io e che uso tuttora per superare problemi ed illusioni. Scoprirai i trucchi, segreti e scorciatoie per migliorare sia la tua situazione sentimentale sia la tua situazione sessuale e diventare un vero maschio alfa. Non è un segreto che il far più sesso e avere in generale una vita sentimentale, sessuale e soddisfacente aumenta la tua autostima. E più la tua autostima sale, più è facile portarsi alle nuove ragazze. E non solo, più alta è la tua autostima e più aumentano le probabilità di far carriera e quindi fare anche più soldi. Avrai come un'aura invisibile che attira nuove ragazze e anche nuove opportunità. Scoprirai come sbatterte nella minchia del giudizio delle altre persone per vivere la vita che realmente desideri. Sai perché hai paura di parlare con ragazze sconosciute al vivo? Perché hai paura di quello che penserà lei, di te, e di quello che penseranno le persone intorno a voi. Questo pensiero, che sia consapevole o inconsapevole, ti limita ed è una delle cause principali degli insuccessi degli uomini. Ma ancora per poco, perché ti mostrerà come sbattertene letteralmente la minchia di quello che pensano gli altri e perché questo tratto caratteriale che acquisirai sarà uno dei tratti caratteriali che ti farà portare a letto più ragazze. E molto molto altro, questo è solo un assaggio di quello che avrai nel nuovo corso Confessioni dopo dieci anni a rimorchiare. Queste confessioni ti apriranno gli occhi e ti mostreranno la via più veloce per far sesso con nuove ragazze e diventare un uomo altamente desiderato. Hai mai provato quella sensazione di frustrazione nel vedere qualcuno che ottiene facilmente un risultato che invece tu non riesci a ottenere neanche con un sacco di impegno? Se sì, allora preparati a saltare dall'altra parte, perché sarai tu adesso, quello che riuscirà a farcela con le donne facilmente, conoscendo tutte le scorciatoie che ho preso in dieci anni. Grazie alle informazioni che ho racchiuso all'interno di Confessioni dopo dieci anni a rimorchiare, se prima la strada ti sembrava insalita, adesso la strada diventerà magicamente in disceva. Pensaci, quanto sarebbe facile diventare ricco se scoprissi tutti i segreti dei ricchi per fare soldi senza fatica? Quanto sarebbe facile diventare il numero uno di tennis se ad allenarti e dirti esattamente cosa fare ci fosse il campione in carica? E quanto sarebbe facile portarti a letto nuove ragazze se potessi accedere ad informazioni riservate che solo chi è nel settore da dieci anni e ha risultati mostrabili può darti? Non ci vuole di certo un genio per capirlo. Con le scorciatoie che scoprirai, il risultato è scontato. Più ragazze e più sesso. E come se non bastasse, accedendo al corso in versione completa potrai fare anche una consulenza privata direttamente con me. Come tutti, ti servono dei consigli e delle istruzioni personalizzate. Ognuno ha i suoi problemi, i suoi pensieri, le sue paranoie. Ed immagino che tu vuoi anche farmi qualche domanda per scoprire qualche altro mio segreto, vero? Bene, accedendo entro l'11 giugno, a Confessioni dopo dieci anni a rimorchiare, nella versione completa, in via del tutto eccezionale avrai in regalo una consulenza privata con me del valore di ben 300€. Come hai ben capito, ho iniziato il mio percorso di miglioramento dieci anni fa e da cinque anni anche il mio lavoro. Quindi in questa consulenza posso sbloccarti immediatamente e indicarti la strada perfetta per te. Posso dirti come risolvere i tuoi problemi, cosa fare nel pratico, come devi pensare per ottenere ciò che vuoi, come portarti a letto la tua amica, la tua collega, come portarti a letto la più figa della palestra. Insomma, ho seguito ed aiutato così tanti uomini che ormai mi basta davvero poco per capire e indicarti esattamente cosa fare e come farlo. E come se non bastasse, sempre per chi accede alla versione completa, entro l'11 giugno riceverai a regalo un videocorso a tua scelta, fra i nostri migliori videocorsi, che ricordiamo che mesi fa abbiamo chiuso al pubblico e non sono più acquistabili. Potrai scegliere fra corsi per portare a letto ragazze conosciute al vivo, corsi per portare a letto ragazze conosciute online, corsi sulla conversazione, su cosa dire ad una ragazza, corsi sulla mentalità giusta da avere, corsi sulla psicologia femmile, corsi su come chattare con una ragazza, corsi su come durare di più a letto, su come rimorchiare ragazze più giovani, se tu sei più adulto, corsi su come rimorchiare le modelle, corsi su come trasformare qualsiasi ragazza in una scopa amica, corsi su come trovare una fidanzata e gestire la relazione in coppia, per fare in modo sia una relazione in coppia felice. E come se non bastasse, il nuovo videocorso Confessioni dopo 10 anni a rimorchiare è protetto da garanzia soddisfatto rimborsato, il che significa che se entro 90 giorni all'acquisto, non dovresti aver ottenuto risultati, non ti dovesse piacere, il corso potrebbe tranquillamente richiedere un rimborso completo. Quindi rimane acquistabile in sconto fino all'11 giugno, dopodiché chiuderà e non sarà mai più acquistabile. Clicca sul link in descrizione per maggiori informazioni e se hai domande o dubbi, scrivi gratis su WhatsApp a un nostro consulente esperto, anche qui trovi il link cliccando in descrizione.